Sono Massimo Donadini, sono il responsabile del Servizio Civile Nazionale presso il Corpo Volontari Presolana e sono qui anche quest'anno a rinnovare l'invito ai giovani, ragazzi e ragazze di un'età compresa tra i 18 e i 28 anni a voler prendere in considerazione di poter partecipare a questo progetto del Servizio Civile. Il Servizio Civile dura 12 mesi, si svolge presso la nostra associazione che si trova a Castione della Presolana presso il Corpo Volontari Presolana in via Piave numero 1, viene retribuito mensilmente con 433 euro si svolgono dei servizi secondari quindi non di urgenza, emergenza ma trasporto di persone disabili di accompagnare le persone a fare dialisi, comunque niente di particolarmente impegnativo può essere un'esperienza che può aiutare a maturare quindi vi aspettiamo per raccogliere le adesioni presso la nostra sede. A numero 0346 60 666 potete telefonare, chiedere di Massimo oppure scrivermi all'indirizzo di posta elettronica serviziocivile chiocciola cvpcastione.it Grazie